amici ed amiche carissimi eccoci tornati insieme per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato ai novissimi questa è se non vado errato l'undicesima e dovremo oggi certamente finire la trattazione speriamo dell'argomento dell'inferno questo nuovissimo un po ahimè drammatico ma come abbiamo già visto altamente salutare è la riflessione su di esso quindi dobbiamo andare a concludere abbiamo visto già la volta scorsa l'analisi sistematica dell'inferno proposta da sant'ommaso d'aquino in particolare delle pene del danno e del senso ci siamo fermati appunto con la considerazione delle dimensioni delle pene dell'inferno anzitutto l'aspetto più drammatico che è l'eternità e poi quello dell'intensità l'intensità delle pene dei dannati è proporzionale al numero e alla gravità delle colpe commesse non è inferiore e quindi non è non ci sono sconti però non ci sono neanche aggravi nel senso che nemmeno all'inferno ai demoni ha concesso di fare quello che vogliono da parte della divina giustizia perché appunto la divina giustizia li frena non consentendo loro di tormentare di torturare il dannato più di quanto se lo sia meritato teniamo presente che sant'ommaso d'aquino affermò che in base agli indizi della sacra scrittura fosse ragionevole affermare che l'inferno fosse sottoterra circa l'ubicazione dell'inferno i catechismi tacciono sia il nuovo catechismo ma anche il catechismo di San Pio X ometteva ecco di affrontare l'argomento del luogo quando si parla di luoghi per queste realtà ultraterrene è sempre un discorso un pochino aleatorio nel senso che secondo il nostro modo di pensare ci deve essere per forza l'inferno specialmente pensiamo quando sarà poi come dire definitiva la separazione di giusti dai malvagi lo vedremo dopo l'idea universale in base alle affermazioni della sacra scrittura si può in qualche modo concepire che ci sia appunto proprio una separazione secondo il nostro modo di pensare spaziale no ma facendo riferimento anche ad altre catechesi insomma specialmente quelle sulla divina volontà su tenera amata capiamo che queste categorie vanno prese sempre un pochino con con le molle quindi sicuramente esiste un qualche tra virgolette luogo ecco dove si trova questo inferno che però prima di tutto è una è una condizione appunto quella dell'eterna dannazione è anche vero che questo ce ne informano gli esorcisti per esempio quando quando c'è qualche anima dannata che possiede un un corpo supplica l'esorcista di non mandarla via perché dice che praticamente si trova molto meglio lì piuttosto che all'inferno quindi ripeto ci deve essere un modo per pensare una cosa di questo genere però ripeto diventa aleatorio andare ad azzardare dove si trovi anche perché la nostra conoscenza di queste cose è abbastanza abbastanza imperfetta e limitata concludendo ti tiriamo un pochino di 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 file conclusive di riflessioni conclusive ancora sistematiche e poi volevo già questa sera proprio per andare a leggere qualcosa soprattutto per chi ancora avesse qualche dubbio io volevo leggere in particolare quanto il signore fece fece vedere fece vedere a santa faustina covarska perché capite l'apostola della divina misericordia così come anche i pastorelli di fatima no cioè se questi vanno a parlare in quei termini dell'inferno speriamo cioè il signore quando suscita una cosa di questo genere lo fa perché sa bene che nonostante la chiarezza dogmatica che la chiesa abbia maturato nel corso del tempo ahimè come abbiamo visto purtroppo come in tante altre cose purtroppo messe in discussione in questi tempi recenti perché siamo ancora sotto pieno attacco modernista e modernisti sono allergici ad ogni formulazione dogmatica e dottrinale chiara preferiscono sempre lasciare tutto ecco nel nel fumo in un fumo di un di un'epanescenza indistinta ecco invece da un punto di vista automatico c'è una grande chiarezza dottrinale specialmente su questi temi adesso andiamo a concludere un po la riflessione le ultimissime considerazioni sull'inferno che fa san tommaso e poi qualche considerazione conclusiva prima di passare appunto a quest'appendice diciamo così di vogliamo chiamarla devozionale o comunque un focus veloce su qualche rivelazione privata no allora anzitutto l'eternità dell'inferno e delle sue pene l'inferno eterno e le pene dell'inferno sono eterni come mai dice san tommaso si chiede san tommaso da quino anzitutto in ragione del peccato mortale perché il peccato mortale è una offesa infinita a dio ed è infinita appunto perché corrisponde alla dignità del soggetto offeso dal peccato che è infinito adesso quindi corrisponde una pena infinita nella durata ancora in ragione del disprezzo dei beni eterni perché con la conversio al creaturas che è uno dei costitutivi formali del peccato la aversio a deo e la conversio al creaturas si dice nella teologia classica il peccatore disprezza i beni eterni per i beni temporanei per cui eterno deve essere il male retribuito e sempre san tommaso sono eterne perché nella volontà del peccatore il peccato è eterno nel senso che chi pecca esprime una volontà irreversibile adesso questo questo punto fondamentale tu dici ma no non è vero che io esprimo una volontà irreversibile io pecco ma poi mi posso pentire guardate amici che questo non è vero bisogna pensarci bene quando una persona commette un peccato mortale non è vero che si può pentire di sua spontanea volontà perché persa la grazia di dio per riottenerla ci vuole una grazia attuale che il signore rifaccia che non è tenuto a farti quindi quando un folle pensiamo per esempio alla tragedia del peccato originale non c'è la possibilità di tornare indietro non c'è ma non c'è la possibilità di tornare indietro senza una particolare grazia di dio anche dal peccato mortale tu non ti andrai a confessare dopo aver fatto un peccato mortale se dio non ti dà la grazia di farlo non ci andrai e in questo senso a volontà eterna di peccare corrisponde eternità della pena c'è un altro motivo certamente non non mi voglio permettere come dire di di fare le glosse a san tommaso d'aquino no per carità io non sono neanche degno di nominarlo però c'è un punto fondamentale che deve essere a mio avviso ben compreso all'inferno ci va chi muore appartenendo a satana anche questo è considerazione a cui generalmente si fa si fa poca attenzione quei pochi che ci credono che magari hanno visto in giro qualche video hanno letto qualcosa sono terrorizzati io conosco qualcuno generalmente dai fenomeni delle possessioni diciamo non voglio neanche sentire parlare c'ho paura c'ho paura c'ho paura c'ho paura dico che fa paura questa cosa qui a me niente a me invece fa molta paura la possibilità di cadere in un peccato mortale quello sì che mi fa paura perché un posseduto o sapete che ci sono casi per esempio di possessione l'abbiamo letto qualche tempo fa neanche un due tre sabati fa c'è il file in giro sia sui miei podcast che su youtube una storia tragica raccontata da dall'ultimo esorcista di padre amort uno degli ultimi testi che ha scritto quel grande esorcista prima di morire la possessione poverino di un poveraccio che sant'uomo tra l'altro anche finita tragicamente con la morte di questo di questo poveraccio perché è vero che ordinariamente la possessione i casi di possessioni presuppongono come dire uno status di un'anima che non vive in grazia altrimenti difficilmente potrebbe essere colpita da un male malefico o aggredita no perché però possono succedere dei casi di questo genere se pensi a santa gemma che veniva esorcizzata da gemma galgani oppure al caso veramente allucinante di una drammaticità estrema di annalismi shell veramente quelle sono cose da far si può andare in giro e formarsi un po no però la possessione del corpo cioè annalismi shell quando è morta è andato in paradiso senza nessun dubbio santa gemma galgani quando è morta è andato in paradiso senza nessun dubbio quel sant'uomo di cui parla padre amort morto tragicamente ma sicuramente all'inferno non c'è andato perché la possessione diabolica non significa che l'anima appartiene al al diavolo no per una qualche permissione divina quella persona può possedere il corpo di una persona i sensi le facoltà in certi momenti ma non l'anima all'inferno ci va chi ha chi ha venduto l'anima al diavolo ma per vendere l'anima al diavolo non serve che uno vada a fare i patti satanici con cui si vende l'anima al diavolo sono cose orribili sono perché tu consegni l'anima al diavolo non è che gliela vendi gliela proprio metti gliela proprio metti nelle mani quando fai un peccato mortale persa la grazia di dio si entra automaticamente in grazia di satana e qual è la differenza se lo siamo detti tante volte tra dio e satana è che dio ha figli il figlio sta dalla parte sua sempre liberamente a me non mi tiene nessuno a stare con il signore se non domani me ne dovessi andare nostro signore non è che mi prende a catene d'accordo o fa come i mafiosi che che ti cercano per ucciderti per fartela pagare no certamente nostro signore come si vede dalla parabola del figlio al prodigo come dire secondo il nostro modo di di pensare ma è qualche cosa di vero anche in dio anche se non possiamo ben comprendere come accade soffre per un figlio tanto per un figlio che si allontana no gesù non soltanto nella sua vita terrena ma tante anime durante le rivelazioni private ha ha parlato delle sue sofferenze per un per un'anima che si allontana da lui ma non gli fa violenza non la trattiene con le catene ma per il diavolo non funziona così è il diavolo una volta che ti ha preso non ti molla e se qui sulla terra a volte è costretto a mollarti perché perché il signore magari per le preghiere di chi sta pregando e sacrificandoci per te ti manda una grazia la grazia della conversione tu l'accogli ti confessi e ti liberi ti svincoli dalle grinfie di satana e quando entra subentra la potenza del sangue di cristo il diavolo deve soltanto che andarsene o ma questo vale per questa vita ma se uno muore in stato di peccato mortale quindi con l'anima che appartiene a satana la conversione non è più possibile e quindi e quindi satana si prende quell'anima e stai tranquillo che satana non la molla più le catene sono eterne non c'è nessuna possibilità per l'anima di svincolarsi né riceverà da dio la grazia di farlo e quindi l'inferno deve essere per forza eterno perché che il diavolo non come tutte quante le creature non cesserà mai di essere questo è in dubbio che non c'è possibilità di conversione per i dannati adesso lo vedremo è ugualmente in dubbio e quindi il diavolo non mollerà mai le sue prede mai non le vorrebbe mollare neanche sulla terra figuriamoci se le molla quando già stanno all'inferno che sono sue ha diritto perché lui ha combattuto una battaglia contro quell'anima e l'ha vinta e l'anima gli ha consegnato stupidamente la propria anima attraverso una volontà perversa attraverso la quale ha abbracciato il peccato schierandosi dalla parte del diavolo che è peccatore fin da principio come dice gesù io vorrei sapere quanti pensano queste cose perché se uno per esempio vorrei un attimo a pensare ci credesse fermamente cioè un peccato mortale un piacere di cinque minuti d'accordo o una gratificazione che dà qualche peccato grave no certo ci pensi che tu consegni l'anima al diavolo con una consegna che di per sé è irreversibile se non ti arriva una grazia del signore tu sei già spacciato perché si ribadisca per quanto concerne la volontà del peccatore il peccato è eterno perché non si può non puoi tornare indietro di tua sola propria volontà o e a proposito dell'eternità dell'inferno la cosiddetta dottrina dell'apocatastasi attribuita ad origine o al suo entourage a chiunque sia comunque viene da quella scuola l'apocatastasi dice che a un certo punto i diavoli si convertiranno e il nostro signore finalmente li perdonerà e li ammetterà in paradisi insieme a tutti quanti dannati questa è una bestemmia grossa quanto una casa ed è una dottrina eretica proprio formalmente non c'è nessun privilegio nemmeno per i cattolici peccatori perché chiunque muore in peccato mortale scrive sant'ommaso nella questione 99 articolo 5 della sommateologie non sarà liberato dalla pena eterna né per la fede che ha avuto e né per le opere di misericordia che ha praticato e ciò neppure dopo uno spazio indefinito di tempo quindi attenzione concludendo diciamo così facciamo un pochino una summa una sintesi a numero uno l'inferno esiste oggi questa verità va gridata dai tetti perché non sono in tanti a crederci ancora che l'inferno esiste vi ho già detto nelle puntate precedenti commenti certi commenti visti ai primi video sul sull'inferno no ecco c'è la solita tarantella del medioevo d'accordo del medioevo del retrogrado dello spauracchio d'accordo ecco questi ecclesiastici che vogliono terrorizzare il prossimo per tenerlo buono per tenerlo soggiogato con l'ampolla con con lo spauracchio dell'inferno con la minaccia delle pene eterne ora la scrittura e l'insegnamento della chiesa come abbiamo visto sull'esistenza dell'inferno sono inequivocabili la sacra scrittura prima ancora che l'insegnamento della chiesa sia per quantità di citazioni sia per qualità quindi per qualità nel senso di chiarezza primo punto che l'inferno esiste secondo punto l'inferno è eterno questo si mette solo bene in testa e ribadisco e raccomando di fare quel più esercizio che raccomandavano gli antichi maestri di spirito di fare la meditazione sull'inferno prova a pensarci se dio non voglia ci va a finire tu dentro l'inferno ha lasciato ogni speranza voi che entrate non date retta la dottrina sull'apocatastasi è eretica e non solo il male attenzione perché c'è qualcuno che ogni tanto vaneggia dicendo che no 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 ma a un certo punto tutti quanti i malvagi saranno annientati diavoli e anime torneranno nel nulla no 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 tornano nel nulla niente di ciò che ha creato dio torna nel nulla niente di ciò che ha ricevuto l'essere da dio tornerà nel nulla perdendo quell'essere che dio gli ha dato perché dio non glielo toglierà se tu sei diventato perverso è colpa tua che hai trasformato il tuo essere in qualche cosa di perverso ma dio non te lo toglie quindi per accidents terzo punto di una di questa appunto rassegna conclusiva l'esistenza dell'inferno è l'attestazione suprema anche se estremamente drammatica della grande verità sulla libertà della persona umana che è un bene da difendere sempre e dovunque e comunque la libertà non può e non deve essere conculcata da niente e da nessuno perché dio è talmente tanto rispettoso di questa che il prezzo come dire accidentale di questa è la dannazione perché dio per impedire una dannazione non violenta una creatura non la violenta lo capiamo anche questo qui nell'orizzonte dell'amore non il rapporto tra dio e la sua creatura il rapporto di amore il rapporto di amore deve essere sempre bilaterale come faccio a costringere una persona a accogliere il mio amore e ad amarmi tutti quanti siamo stati giovani se c'è un amore non corrisposto se soffre ma che cosa vuoi fare vuoi andare a fare una violenza per ricevere l'amore ma non penso insomma che che quello ti gratifichi c'è qualcuno che fa le violenze sessuali no ma quello certamente non è amore è bestialità non è amore pensiamo anche per chi la conosce a livello giuridico la donazione che non è un contratto è un atto di liberalità unilaterale ma però ha bisogno del dell'accettazione del donatario per essere valida se non è nulla perché non si può ricevere un regalo per forza né automaticamente e lo devi accettare l'inferno è un luogo di tormenti non è la semplice privazione della visione beatifica vabbè abbiamo fallito di vedere cioè non è l'inferno non è il limbo è l'inferno dei dannati è un luogo di tormenti Luca 16 stando nell'inferno tra i tormenti il ricco e pulone e quei tormenti sempre la parabola del ricco e pulone quinto aspetto sono eterni sesto punto è certo che Dio non vuole che nessuno vada all'inferno si legge una lettera a Timoteo Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e arrivino alla conoscenza della verità Dio non vuole di per sé che qualcuno vada all'inferno ma questo non significa né che sia vuoto né come qualcuno ha cianciato negli anni addietro che è lecito sperare che lo sia perché chi dice queste cose mi si perdoni bestegna perché sta dando dell'imbecille mi si perdoni o di uno che parla a bambera a nostro Signore Gesù Cristo perché quando nostro Signore Gesù Cristo parla dell'inferno nel Vangelo non ne parla come di un posto vuoto o non ci fa assolutamente come dire sperare non ci consente di sperare che sia vuoto sforzatevi di passare per la porta stretta perché molti cercheranno di farlo ma non ci riusciranno e dove andranno quelli che non sono riusciti a passare per la porta stretta ma scusate dove vanno se non percorrono la via che conduce la vita che è la porta stretta e la via angusta dove andranno a finire è larga è spaziosa la porta che conduce alla perdizione e molti ci vanno dice Gesù non che è lecito sperare che sia vuoto via da me ma redetti nel fuoco eterno preparato dal diavolo per il diavolo e per il suo angelo sta scritto in Matteo 25 non me lo sono inventato io né sarei inventato nessun Papa o nessun Concilio o nessun Vescovo sta scritto nel Vangelo quando una cosa sta scritta nel Vangelo o nella Sacra Scrittura ma di che cosa vogliamo parlare? io veramente non avendo letto avendo ascoltato e non abbiamo finito ma qualcuno mi saprà spiegare ma come fanno alcuni Vescovi andare a chiacchierare a blaterare ma lo dico tranquillamente non me ne importa niente di andare a sdoganare a benedire le unioni omosessuali quando è chiarissima la Sacra Scrittura in merito quale benedizione ma se non può essere benedetto neanche una coppia di due giovanotti come dire maschietto e femminuccia che non riescono a trattenersi e vivono come marito e moglie prima del matrimonio ed è peccato mortale ieri, oggi e sempre figuriamoci quell'altro di cui si parla in tanti di quei luoghi della Sacra Scrittura con un linguaggio assolutamente politicamente scorrettissimo e tu le puoi sdoganare ma questi chi si credono di essere questi qui io non vorrei scomodare Pio IX insomma che sapete che quando a Pio IX gli proposero di fare una riforma liturgica sulla messa sapete che rispose che devo fare io la riforma liturgica sulla messa io ma io sono soltanto il Papa grande risposta io sono soltanto il Papa perché pure il Papa non è mica il Padre Eterno è il Papa per carità è il Dicario di Cristo interno è il successore di Pietro verità il capo della Chiesa ma la sua autorità è picaria e deve essere sottomessa a Cristo al Deposito un Fidei di cui è garante e custode e ha la Chiesa stessa capito solo il Padre Eterno è il Padre Eterno quello che vuole noi no e io nel mio piccolo insomma nella mia nullità in significanza anzi sono l'ultima ruota del carro forse anche peggio dentro la la Santa Chiesa di Dio ma io non posso non posso non chiedermi alcune cose io non lo so cosa gli frulla nella testa a queste persone che venero per carità non che venero che onoro in quanto superiori perché investiti del sommo sacerdocio quindi sono vescovi per carità nessuno discute l'autorità oggettiva e la superiorità oggettiva che hanno ma questo non li autorizza a dire stupidaggini anzi li rende doppiamente colpevoli per questo perché loro non dovrebbero dire stupidaggini per nessun motivo perché il sacramento e la potestas che hanno ricevuto è esattamente per tutelare la verità non per dire stupidaggini per tutelarla per difenderla per promuoverla per annunciarla non per contraddirla o per andarsi ad inventare cose strane se lo facesse qualche teologo capite qualche teologo qualche teologastro non lo dovrebbe fare d'accordo ma pazienza è per annor cioè che alcune cose escano fuori da bocche ma questo è cronaca attuale io lo dico con dolore capito cioè con dolore immenso tutti quanti sappiamo quello che sta accadendo in Germania credo con vescovi che se ne vanno via dal sinodo dicendo ma dove siamo andati a finire eppure lì ci stanno dei vescovi regolarmente ordinati con una potesta spianamente legittima ma che cosa gli passa per la testa nella mia ignoranza non mi è dato di sapere di certo quando succedono cose di questo genere che qualcuno fosse anche vescovo esce fuori dal seminato non solo che si ha il diritto ma si ha il dovere di dire mi dispiace tanto io ti rispetto e ti onoro per la potestas e l'autoritas che hai ma tu questa cosa non la puoi e non la devi dire per nessun motivo proprio per la potestas e per l'autoritas che hai quindi settimo punto Dio ha giustizia misericordiosa verso i dannati addirittura abbiamo visto pene eterne sì ma non più di quanto ti sei meritato e guardate che se il diavolo avesse carta bianca pure all'inferno sarebbe molto peggio l'inferno di quello che è e quindi qui ritorna un punto misterioso che i demoni loro malgrado anche se si pensano di essere chissà cose sono semplici esecutori della giustizia di Dio perché il dannato soffre tanto quanto sarebbe meritato e il tasso quindi di sofferenza che può ricevere è deciso da Dio non dai diavoli che non contano niente i diavoli non contano niente non contano anche su di noi i diavoli non conterebbero niente li facciamo contare noi l'ho già detto la volta scorsa il diavolo conta tanto quanto la libertà o meglio la stupidità in questo caso dell'uomo li fa contare ci hanno tanto potere quanti peccati liberamente commessi gliene danno niente di più niente di meno bene terminata questa lunga rassegna andiamo a vedere qualche cosa di quello sapete bene che Santa Faustina Kowalska era no no era è stata dominata dal nostro Signore Gesù Cristo l'apostola della Divina Misericordi il diario di Santa Faustina è come dire un capolavoro di come dire di bellezza di dolcezza è un testo pieno di speranza di consolazione io personalmente posso permettere un riferimento biografico ci avrò sempre un debole perché è stato dopo l'imitazione di Cristo che fu il primo libretto di spiritualità al di là del Vangelo che conobbi c'era sempre mia mamma c'era sulla scrivania e io gli chiedevo ma che cos'è sta cosa ma come che cos'è questo è una volta lo chiamavano il quinto Vangelo è l'imitazione di Cristo è bellissimo quindi le prime occhiate a testi di natura spirituale furono sull'imitazione di Cristo ma poi tra l'altro quando stette male il mio caro amico mi capitò tra le mani questo diario che mi ricordo il diario non era ancora stato pubblicato c'erano ancora dei fogli dattilo scritti perché era il 92 il 93 io quando sentivo Gesù parlare della sua misericordia di quanto ama la creatura cioè che c'erano i virgolettati no che c'era Gesù che parlava quell'animo io mi ricordo catevo dalle nuvole dico ma veramente dico io ma è Gesù che gli ha parlato proprio lui e non mi sembrava il vero quindi mi leggevo sto diario proprio tutto quanto gasato e uno esce da quella lettura come dire ripeto rincuorato contento più consapevole dell'amore della misericordia di Gesù quindi sembrerebbe una stonatura che l'apostola della divina misericordia parli dell'inferno che insomma sembra un luogo dove la misericordia non arriva più anche se in qualche modo abbiamo visto in qualche modo certamente si affaccia anche lì nel senso che non viene consentito ai diavoli di fare tutto il male che vogliono nemmeno a casa loro ecco però sentiamo Santa Faustina perché Santa Faustina ripercorre l'inferno e seguendo Santa Faustina ripercorreremo anche quello che siamo andati come dire sviscerando da un punto di vista scritturale e dogmatico quindi per chi preferisce la variante ageografica ecco forse questo è il termine migliore leggiamo anche quella scrive nel diario della nel suo diario oggi sotto la guida di un angelo sono stata negli abissi dell'inferno è un luogo di grandi tormenti per tutta la sua estensione spaventosamente grandi quindi è un luogo di tormenti io non è amici miei che ci godono il dire questa cosa perché mi piacerebbe anche a me che non fosse così che non esistesse una roba così orribile ma è un luogo di tormenti e ribadisco chi non è capace di stare vicino al Signore come dovrebbe essere per l'amore che si merita per quello che ha fatto per noi per il fatto che è tutto il bene diceva San Francesco il sommo bene l'unico vero bene è la nostra pace la nostra gioia la nostra felicità è la nostra vita è il nostro Salvatore chi più ne ha più ne metta che tanto sono sempre poche chi non è buono a starci per questo motivo ci stia nella consapevolezza che se muore separato da Gesù in stato di peccato se ne va negli eterni tormenti i maestri di spirito dicevano e andate a sentire i predicatori di altri tempi per distogliere il peccatore proprio incallito specialmente da certi peccati Schillicet si dice nelle citazioni i peccati impuri andate a vedere le pratiche che facevano i predicatori di un tempo quando gli dicevano tu tu continua 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 con questa musica continua vedrai poi quella carne che adesso stai blandendo e lordando quali torture raffinate che subirà per tutta per tutta l'eternità questo non è terrorismo questo qui questo è realismo perché capite dinanzi a certe anime a quelle diciamo un po' un po' grezze un po' ruzze soprattutto quelle incancrenite nel peccato che tu gli vai a dire ma guarda che Dio ti ama è morto in croce per te ti perdona di quello che stai facendo ma che non gliene importa niente perché non non vuole farsi perdonare di niente a quello gli piace la vita che fa gli piacciono i piaceri che vive perdonare di che ma a me che me ne importa del perdono me sto tanto bene sto ma se tu gli dici continua 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 vai ingrassate ingrassate poi vedrai quando muori che succede di questi tempi la stragrande maggioranza delle persone riderebbe in faccia oppure ricomincerebbe col mantra ancora credi a queste a queste cretinate questa roba da medioevo d'accordo questi sono spauracchi di cui io mi sono liberato forse in ogni caso i maestri di spirito cattolici tra cui il santo curato d'Ars che ricordo benissimo basta leggere la biografia del Trosci diceva dinanzi a certi peccatori lo strumento più infallibile più efficace meglio per ottenere la conversione è fargli una bella predica sull'inferno e su quello che gli attende se non la pianta non sulla misericordia questo è quello che dicono loro poi se come qualcuno vorrebbe far credere che dato che cambiano adesso sono cambia anche questo cioè per duemila anni hanno pensato una certa cosa una banda di stupidi invece adesso noi che abbiamo capito tutto andiamo a parlare solo della misericordia e mettiamo nel dimenticatore l'inferno anzi mettiamo pure il dubbio che chi lo sa se esiste e per tanto poi è eterno ma canto mai ma al limite se proprio esistesse vabbè vuol dire che non vedi Dio ma per tutto sommato quindi è un luogo di grandi tormenti per tutta la sua estensione spaventosamente grande queste le varie penne che ho visto sentiamo quelle che ha viste Santa Faustina ricordiamo pianto stitura di denti tutte queste cose qui no la prima pena quella che costituisce l'inferno è la perdita di Dio la perdita di Dio la perdita di Dio non sapendo perfettamente quello che si è perso ma sapendolo molto meglio di come lo sappiamo noi la seconda è continui rimorsi di coscienza ma rimorsi 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 ma capite cosa per tutta l'eternità maledirsi e dire maledetto che sono stato avrei potuto evitarlo non ci sarebbe voluto niente e quando parlavo di queste cose raccomandavo di ascoltare una canzoncina di miei cari amici De San che si chiama Le opportunità che ho perso che è appunto una bellissima canzone dove si presta la voce e quindi canta un'anima dannata questo mantra delle opportunità che ho perso torturerà il dannato per tutta l'eternità e gli farà lanciare maledizioni contro se stesso perché in forza di questo lui si riconoscerà come l'unico colpevole della propria dannazione adesso qualcuno può bestemmiare andando a incolpare Dio della dannazione di qualcuno che è una delle bestemmie peggiori che si possa dire che è un insulto alle pene di Gesù Cristo crocifisso ma quando si starà all'inferno perché nell'altro mondo è comunque il mondo della verità sia in un modo che in un altro quello lo vedrà benissimo che è solo colpa sua a parte che se se lo dovesse dimenticare saranno i demoni a ricordaglielo per tutta l'eternità tu stai qui per colpa tua tu sei voluto venire con noi stupido che non sei altro ti abbiamo fatto secco e ti abbiamo allettato con qualche piaceretto d'accordo con qualche soldino con qualche lucciola con qualche brama di successo brama di notorietà di fama di potere questo è il prezzo te lo sei preso e adesso te ne stai con noi la terza un dramma ci abbiamo meditato la consapevolezza è quella sorte che non cambierà mai non ci si mediterà mai abbastanza amici miei perché qualunque cosa possa succedere su questa terra anche il male assoluto degli ultimi due anni che sembra che ce n'è uno solo di male chi può capire capisca che cosa succede massimo che succede uno more ma con la morte finisce la sofferenza giusto albino finisce mai non finisce non c'è possibilità di farla finire la quarta pena è il fuoco che penetra l'anima ma non l'annienta è una pena terribile è un fuoco puramente spirituale acceso dall'ira di Dio quindi all'inferno c'è il fuoco non è una metafora il fuoco la quinta pena è l'oscurità continua le tenebre no? le tenebre esteriori dove sarà pianto estitore di denti di cui parla Gesù nel Vangelo attenzione oscurità continua un orribile soffocante fetore una puzza che non finisce mai puzza vera è sapete che la puzza ammorbante generalmente attribuita all'inferno è lo zolfo chi è mai stata le acque zolfure sente che insomma ci vuole un bel fegato per per andarsi a fare i bagni lì dentro per quanto siano per carità salutari per la pelle ma veramente una cosa nauseabonda ma lì ci sono delle puzze immaginate quando uno sta in mezzo a fetori cioè non non serve fare troppi fare troppe nomine di queste cose perpetui e benché sia buio attenzione i demoni e le anime dannate si vedono fra di loro e non solo vedono tutto il male degli altri e il proprio le sofferenze ma anche il male che è la causa di esse la malvagità a contatto con la malvagità oggi vanno di moda in giro certe serie qualcuno può darsi che l'ambia vista qualcuno che parlano dei della malavita ma della malavita 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 insomma che sono fatte come tutte le cose che fanno oggi in maniera come dire oltremodo realistica storie orribili capito di gente che si odia che si tradisce a vicenda che un giorno stanno insieme quello è niente in confronto all'inferno quello è niente quello lì chi vive in quel modo evidentemente si tratta di demoni incarnati no ma quello è niente in confronto all'inferno in confronto ai demoni allo stato puro cioè a sentire l'odio su di sé una delle cose positive che si che si vive quando si sta a contatto per accident con qualche drammatico caso di possessione diabolica è la percezione dell'odio allo stato puro che hanno i demoni loro sono odio odio significa una persona che ti vuole male gode nel vederti soffrire e ti fa soffrire ma per farti male è sadica c'è proprio il sadismo allo stato puro questo è l'inferno di queste cose bisogna esserne consapevoli a me non interessa nulla l'ho già detto se scrivono nei commenti che sono medievale o che sono retrogrado o che spavento le persone niente proprio la sesta pena è la compagnia di satana di satana ah perché satana c'è immediatamente libero accesso conosco nei confronti di qualunque anima d'annata ti piace la compagnia di satana va e la settima la tremenda disperazione l'odio di dio le imprecazioni le maledizioni le bestemmie le urla in continuazione tu dici basta non proprio perché santa postina scriveci queste sono pene che tutti i dannati soffrono insieme ma questa non è la fine attenzione queste sette pene sarebbero l'equivalente evidentemente al negativo della visione beatifica la visione beatifica in paradiso ce l'hanno tutti però i gradi di gloria nel paradiso sono differenti e così questi sette tormenti dannati ce l'hanno tutti ma poi non è finito c'è dell'altro c'è qual è quest'altro sentiamo citazione eh virgolette ci sono tormenti particolari per le varie anime che sono i tormenti dei sensi ogni anima con quello che ha peccato viene tormentata in maniera tremenda indescrivibile con il senso con cui ha peccato tormentata in maniera tremenda ed indescrivibile chi si fa due risate quando legge l'inferno di Dante la divina commedia ci pensi bene di farsi due risate perché quello che sta dicendo Santa Faustina qui è che il fondamento su cui è costruito l'inferno dantesco quindi il contrapasso tu soffri in maniera allucinante una pena uguale e contraria al senso con il quale hai peccato ogni anima sappia che ciò con cui ha peccato quello con quello che ha peccato viene tormentato in maniera tremenda e indescrivibile prosegue ci sono delle orribili caverne voragini di tormenti proprio l'inferno dantesco dove ogni supplizio si differenzia dall'altro pensate che i demoni sono lì ininterrottamente a torturare le anime la tortura se uno vuole farsi un pochino di torture deve leggersi bene il martirologio romano però non è la versione aggiornata le ultime che sono tutte quante come sempre accade e spunte cioè tutti quanti i dettagli che c'erano nei martirologi classici i dettagli che per esempio descrivono i tormenti tutti tolti tutto ovattato tutto soft il racconto di un martiro è una cosa drammatica se a una persona io lo leggo tutti i giorni il martirologio del 62 se a una persona gli strappano le unghie delle mani e poi dei piedi e poi gli tagliano le orecchie e poi gli tagliano una mano e poi gli tagliano l'altra mano e poi lo squartano a colpi di bastonate e alla fine lo trafiggono e è stato martirizzato così deve essere raccontato così il martirio non si può dire diede la vita per il Signore e se ne andò in cielo pieno pieno di gloria quei tormenti dei martiri sono niente in confronto a quello che aspetta i dannati con la differenza che mentre il martire lo ha sofferto per amore del Signore e è stato il tormento di un'ora di due ore di tre ore e dopo quello c'è arrivata un autotreno di gloria il tormento del dannato non è un'ora due ore o tre ore neanche un giorno una settimana o un mese neanche un anno dieci anni e cent'anni neanche secoli o millenni è eterno orribili caverne voragini di tormenti dove ogni supplizio si differenzia dall'altro dice Santa Pustina sarei morta alla vista di quell'orribile torture se non mi avesse sostenuto l'onipotenza di Dio tutti quelli che sono stati all'inferno raccontano questa cosa qui e i pastorali di Fatima lo sappiamo bene un secondo hanno visto l'inferno e dicono se non ci fosse stata la Madonna saremmo morti terrorizzati altro che terrorismo l'inferno è un luogo terrificante non è che si fa terrorismo a parlarne che è terrorista chi ne parla o è terrorista chi lo fa l'inferno cioè i diavoli capite come quelli che adesso vanno a accusare chi ha un pochino di senno di fare il complottista ma quando ci sono delle situazioni dove ci sta motivo fondato di ritenere che c'è qualcosa che non va non si può dare del complottista a chi ne parla ma il complottista è quello che l'ha organizzata quella cosa qualora si dimostri attendibile o addirittura approvata non deve essere accusato chi ne parla ma chi l'ha ordita così non bisogna dire terrorista chi parla dell'inferno ma chi l'inferno lo fa essere che sono i diavoli il peccatore sappia che col senso col quale pecca verrà torturato per tutta l'eternità la tortura scrivo questo per ordine di Dio prosegue affinché nessun'anima si giustifichi dicendo che l'inferno non c'è oppure che nessuno c'è mai stato e nessuno sa come sia ci sono stata io eccomi non c'è mai stato nessuno ci sono stata io io suor Faustina prosegue la citazione per ordine di Dio sono stata negli abissi dell'inferno allo scopo di raccontarlo alle anime e testimoniare che l'inferno c'è non c'è modo migliore di congedarsi che queste parole da tutto lo di cui abbiamo parlato ora non posso parlare di questo ho l'ordine da Dio di lasciarlo per iscritto attenzione i demoni hanno dimostrato un grande odio contro di me ma per ordine di Dio hanno dovuto obbedirmi i diavoli stavano imbestialiti perché chiunque non parla dell'inferno sappia che sta facendo il più grosso regale possibile che i diavoli gli diranno grazie continua ma non parlare di noi non parlare dell'inferno non terrorizzare nessuno poveracci lasciali in pace lasciali non fare il terrorista non andare a rovinare la vita al prossimo in passato quando facevo qualche predica mi si perdoni perché se ogni tanto sapete qualcuno che cosa mi venire a dire non parlare sempre di queste cose se no evidentemente a parlare di peccato di inferno ma a me mi mandi per storto la domenica così mi dicevano pazienza io sono prete di queste cose devo parlare anche di queste cose non solo di queste cose ma io ne devo parlare di queste cose guai a me se non ne parlo continua la Santa Faustina quello che ho scritto è una debole ombra delle cose che ho visto una cosa ho notato e cioè attenzione che la maggior parte delle anime che ci sono sono anime che non credevano che ci fosse l'inferno continua a non crederci che esista l'inferno non ti preoccupare fai il più grosso regalo al diavolo perché all'inferno ci va chi non ci crede che esiste ho scritto che deve aver già citato la frase del mitico cardinal Sili glorioso cardinal Sili che Dio lo abbia in gloria che diceva per andare in paradiso ci devi credere e devi pure fare le opere oltre che crederci ah per andare all'inferno non serve che ci credi anzi se non ci credi è il modo migliore per andarci e il diavolo è tutto contento che tu non ci credi l'odio contro Santa Faustina se qualcuno parla dell'inferno io penso di saperne qualcosa sappia che si attirerà contro l'odio dei demoni che si vendicheranno gliela faranno pagare perché loro non vogliono assolutamente che le persone possano avere un pallido una palida percezione di questo lo sanno bene che l'amore 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 non basta a trarre fuori i peccatori incalliti dal malacchino a cui non gliene importa niente dell'amore sapete a chi gliene importa dell'amore a chi comincia a pentirsi e che dopo che si è pentito anche aiutato da un po' di salutare paura dopo fa il secondo step perché cosa dice San Giovanni l'amore perfetto vince il timore ma la storia della salvezza ma scusate ma nell'antico testamento il nostro signore che cosa ha fatto non ha terrorizzato la gente tra virgolette se uno vuole usare questo fulmini saette cose morti di qua morti di lui universali dopo è arrivata la misericordia se Dio ci ha avuto questa pedagogia e perché non è venuto prima San Giovanni Battista di Gesù siamo in avvento ma San Giovanni Battista che faceva che faceva San Giovanni Battista te ne cantava quattro ti diceva se non la pianti te ne va a finire all'inferno c'è la scura che posta la radice ogni albero che non porta frutto Dio lo dagli e lo sbatte nel fuoco chiaro? piantala con i peccati poi è venuto Gesù a dire beati poveri di spirito perché dopo dopo perché se viene prima viene semplicemente il riso viene ridicolizzato o semplicemente ignorato una cosa ho notato cioè che la maggior parte delle anime che ci sono sono anime che non credevano che ci fosse l'inferno quando ritornai in me non riuscivo a riprendermi per lo spavento al pensiero che delle anime la soffrono così tremendamente per questo prego con maggior fervore per la conversione dei peccatori invoco incessantemente la misericordia di Dio per loro o mio Gesù preferisco agonizzare fino alla fine del mondo nelle più grandi torture piuttosto che offenderti col più piccolo peccato ecco quello che pensano i santi e questa ripeto è Santa Faustina l'apostola della divina misericordia penso di non aggiungere altre parole perché non credo che ci sia modo migliore per congedarsi da questo doloroso ma salutare novissimo Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre e tutti vi protegga